Il messaggio della mia musca è speranza. La musca io la vivo per dimenticare quelli che sono i problemi terreni, no? La musca è un punto di forza, come lo sport, come qualsiasi obiettivo nella vita. Ti dà la forza di vivere la vita al meglio. Peace. Il love è uno dei posti che ho scelto per la città, i posti di Bidokajiva. Il love, perché il love è un posto che ci ho accolto, come se fosse una seconda famiglia. Reputo questo posto come la mia famiglia di Milano, la mamma di Milano. Io la tengo come i miei figli, spero che arriva dove voglia lui. Sono contenta di arrivare più di famosa artista. Bellissimo. Wow. Sono arrivato a Milano dopo più esperienze nella mia vita. Sono stato prima ad Amsterdam, poi a Londra e dopo Londra sono voluto tornare in Italia. Tra le città d'Italia ho scelto Milano perché era la città più grande, la città dove poter ricominciare a fare quello che facevo, ovvero la musica. Questo è cambiato in me, tra il momento in cui sono arrivato in Milano e adesso non è molto. Sono sempre me stesso, solo più consapevolezza e la voglia. Poi riempiamo gli stadi, prima o poi riempiamo gli stadi. Non è un artista così, Guido Kaji, esplode. La strada giusta è la strada sbagliata. La strada giusta ti porta a fare ciò che vuoi fare davvero, quelli che erano i tuoi sogni da bambino. Il messaggio della mia musca è Speranza. La musca io la vivo per dimenticare quelli che sono i problemi terreni. La musica come prima cosa è poter uscire da una situazione che non è quella che pensi che possa essere la tua dimensione.